Quest'anno per la prima edizione, per la prima volta, siamo al MEXPE, a Bologna, un ambiente che ci piace particolarmente, per presentare i nostri prodotti. L'anno è stato particolarmente difficile a seguito della pandemia, inoltre il suo riscaldamento globale ha causato forti cambiamenti climatici, verificabili non solo nella quotidianità ma anche negli ambienti professionali. Vogliamo ricreare ambienti lavorativi, più confortevoli, in cui le persone abbiano un microclima agevole e in cui possono lavorare in maniera controllata. Evitiamo infortuni, cerchiamo di controllare quello che è lo stress performance per far sì che anche l'attività lavorativa quotidiana sia un'attività piacevole. Quest'anno particolarmente concentrato su quello che è il ricambio d'aria nei metri di lavoro. La pandemia ha implicato e ha introdotto questa novità, quella di avere ambienti aperti in cui ci sia un continuo ricambio, in cui gli agenti patogeni non possono proliferare. I nostri prodotti fanno quello, riscaldamento elettrico, dirraggiamento, prepostazione e raffrescamento adiabatico evaporativo. Buongiorno a tutti, Pietro Biasion, SEO Arteco SRL. Vogliamo ringraziare Bologna Fiere per questa straordinaria edizione di MEXPE 2021, un afflusso pazzesco, veramente non aspettato rispetto alle precedenti edizioni. Arteco è un'azienda veneta situata in provincia di Vicenza che si occupa di microclimatizzazione sostenibile. Siamo leader in Italia del settore e siamo in grado di offrire un servizio al cliente a 360 gradi, dalla preventivazione alla progettazione al post vendita. ringraziamo ancora nuovamente tutti quanti per l'annata per noi difficile, ma con un segno positivo e una freccia sempre verso l'alto. Grazie. Grazie a tutti.